Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video diverso dal solito, perché non andiamo a vedere né tutorial, né gameplay, né pacchetti, nulla di tutto questo, ma volevo andare a parlare con voi un po' di quello che è lo stato attuale di FIFA 21, un po' di com'è la situazione, di come viene percepito il gioco da noi pro player, ma anche da, comunque, quelli che sono i casual player, che comunque sono la vena pulsante, a mio modo vedere, di FIFA, la community più grande, ed è giusto che, insomma, si apra, secondo me, un attimo una finestra di dibattito, perché, non so voi, ma ormai siamo arrivati praticamente a dicembre, quindi il gioco è uscito neanche da due mesi, perché per tutti è uscito il 9 ottobre, quindi saranno due mesi il 9 dicembre, ma, per quella che è la percezione, a me mi sembra di giocare a questo gioco da sei mesi, per quello che è il livello di stress psicofisico e mentale che ogni partita mi tira fuori, e... quindi volevo andare un attimino a fare una panoramica su quello che è lo stato del gioco, anche in base a quelle che sono le opinioni, comunque, di pro player illustri all'interno della community, che ho raccolto un po' su Twitter, vi porto, appunto, alcuni di questi pensieri, alcune di situazioni che, secondo me, vanno assolutamente fixate e non vengono fixate, e, insomma, cerchiamo di aprire un po' di dialogo, soprattutto nei commenti, voglio sentire la vostra, quindi, come al solito, passiamo a quella che è la schermata, ci troviamo quindi su Twitter, un social che, magari, in Italia non viene tanto utilizzato, ma, per quanto riguarda il mondo esportivo, è il social numero uno, quindi, ehm, noi lo utilizziamo tanto, vedrete tweet in inglese, non vi preoccupate, per chi, diciamo, lo mastica meno, vado a tradurre. Il primo esempio, in tal senso, che vi vado a portare, è quello di August Rosenmayer, Agge, che, magari, più conosceranno, chi non lo conosce, sappia che, insomma, Agge è un bicampione del mondo, quindi, insomma, non stiamo parlando di un novellino, è praticamente un veterano della scena esportiva di FIFA, quasi una leggenda, possiamo dire, il quale, oggi, ha twittato un qualcosa di molto significativo, perché, in merito alla VL, dice Most non-rewarding game mode I ever played in every single aspect. Probabilmente questa è l'ultima volta che leggo in inglese e mi sono distratto, che poi arrivano i professori a dirmi che non so pronunciare, poi succedono le Civil War, quindi, praticamente, la traduzione è, in merito alla VL, è la modalità maggiormente, che premia meno, quelli che sono, appunto, i player skillati, più forti, che ho mai giocato in vita mia, in ogni singolo aspetto. A commentargli arriva Spider Kong, una leggenda dell'e-sport di FIFA brasiliano, anche lui, fortissimo, tante partecipazioni a eventi internazionali, che commenta Tu, praticamente, spendi dieci anni di fronte all'area avversaria senza poter creare, l'avversario recupera palla, prema triangolo due volte con la barra della potenza al massimo, la palla rimbalza 30 volte e si ritrova 1v1 con il portiere. Seriamente non riesco a capire. E Agger incara la dose, dice Oppure premi il D-pad, quindi quello delle freccette, e hai la soluzione per difendere. Premi il D-pad, se non sai pressare, basta che pressi in automatico. Io lo vorrei comparare a Fortnite, dove sono state riportate dentro quelle che erano le meccaniche richieste dalla community, noi invece abbiamo ottenuto una palla a forma di ciambella dal passo stagionale. Spider Kong risponde, dice E' così patetico come FIFA sta diventando sempre più facile per coloro che non hanno idea di come giocare. Difendere dovrebbe essere la cosa più difficile del gioco, invece adesso più provi a difendere in maniera manuale, più diventa difficile per te, mentre per coloro che premono le freccette del direzionale diventa più facile. Il futuro è preoccupante. E ragazzi, per me hanno assolutamente ragione, perché quante volte vi capita in WL magari di avere la percezione di essere più forti dell'avversario, ma magari essere puniti per una situazione al novantesimo di rimpallo per un contrasto manuale che non viene premiato, oppure per un contropiede dopo una vostra azione avvolgente. Quante volte vi sarete dannati per cercare di difendere in maniera manuale, vedere il vostro avversario schierato in maniera perfetta perché attiva attacco sul lato della palla. Insomma, sono situazioni che provocano una certa frustrazione. Gli esempi ve li porterò a vedere poi con un altro tweet di un altro campione illustrissimo al riguardo. E insomma, anche per quanto riguarda il pressing, da quanto tempo ci stiamo lamentando che questo pressing va nerfato e il pressing non è stato fino ad ora nerfato? Insomma, tutta una serie di situazioni che secondo me fanno storcere un attimino il naso. E per avere, diciamo, una panoramica visiva, anche se immagino che tutti voi sappiate di quello che sto parlando, arriva quello che è un altro tweet illustre, addirittura di Dossari. Cioè, parliamo anche qui di un campione del mondo, uno dei player più stimati all'interno della community per quella che la sua sportività non parla mai, non dice mai una parola fuori posto. Per essere arrivato lui a dire in questo tweet 0 competitive level vuol dire che stiamo parlando di un qualcosa di molto grave, secondo me, e ci porta a quelli che sono degli esempi. Andiamo a vedere qui, ad esempio, questa azione, dove lui sta difendendo in maniera manuale, anticipa perfettamente la giocata, fa un contrasto, la palla gli torna all'avversario 10 volte e subisce gol. Oppure andiamo a vedere quest'altra situazione, dove qui mi perde un altro contrasto, guarda cosa succede tra portiere e difensore, col difensore che fa questo intervento in automatico senza spazzare la palla, poi addirittura se la butta sempre in automatico dentro la porta. Quindi, insomma, sono delle situazioni che assolutamente andrebbero fixate e loro hanno tutti gli strumenti per fixare queste situazioni, cosa che invece non accade. Ovviamente, senza paragonarmi a quelli che sono i due campioni che vi ho presentato in precedenza, vi faccio vedere quello che invece è un tweet che ho fatto io, che mi è capitato in Weekend League. Stavo giocando una partita, tra l'altro, contro un top 200, quindi un player di assoluto livello, una partita super tirata, e guardate qui che cosa mi succede. Io mi stavo impostando la mia azione offensiva, come al solito, avvolgente, palla fuori, palla dentro, palla per Cristiano Ronaldo, vengo buttato fuori dall'area di rigore con questo fallo, l'arbitro mi chiama la punizione. Ma se uno può avere anche il dubbio che il contatto magari fosse fuori, voi vi dovete vedere che il contatto lo segna qui, la palla la pone qui, il mio Ronaldo non è mai stato qui, è stato qui quando dall'area è stato fatto fare un volo. L'azione ve la porto anche a rallenti, perché magari potete dire no, non hai visto niente, non hai capito niente. Adesso vi faccio vedere il replay. Imposto 0,25, va bene la clip, guardate qui quello che succede. Ronaldo prende palla, in questo momento c'è il contatto, Ronaldo mi finisce fuori dall'area. Mi viene data punizione, cioè, capite? Poi magari ci sono quei contrastini, marci, e là vi danno dei rigori casuali. Quindi sono tutta una serie di situazioni che rendono l'esperienza di gioco, a mio avviso, molto molto drainante, prosciugante, scusate il termine in inglese. Cioè, vi proprio toglie l'energia psicofisica a giocare a questo gioco. Io ricordo che quando è uscito, bene o male, mi facevo anche sei ore in Rivals, mi divertivo, schillavo, questo, quell'altro. Adesso è diventato, secondo me, anche peggio di FIFA 20. Vi assicuro, perché è una frustrazione che si va a provare quando vai a fare delle partite che sta lì tre ore e non riesce a sfondare, che, secondo me, insomma, rende questo gioco a rischio vita breve. Eppure, lo dico con un amaro in bocca, perché essendo il mio lavoro, è comunque qualcosa che mi devo portare avanti per tutto l'anno e devo cercare di renderlo quanto più possibile godibile per me e per voi che mi seguite. Quindi, insomma, veramente alle volte rimango un po' esterefatto da queste dinamiche. Però, da un lato, in qualche modo, mi sento un po' sollevato quando vedo che comunque si tratta di opinioni che sono un po' condivise da tutta la community. Mi sono ricordato che ho visto anche un altro tweet di un pro player francese, Mino, anche lui un veterano tanto tanto forte, che oggi mi ha scritto, se non erro, una roba del tipo FIFA 20 è meglio di FIFA 21. Vabbè, qui ha fatto un sondaggio, no, mi sa che non l'ho letto da lui, ero abbastanza sicuro di averlo letto da lui, forse l'ho letto da Runners. Vediamo se lo trovo nelle risposte e nei contenuti, perché l'avevo visto sicuro che c'entrava lui. No, a quanto pare no. Anyway, insomma, si tratta comunque di opinioni condivise, ragazzi, all'interno della community, e io onestamente vorrei sentire un po' un po' la vostra opinione a riguardo, in maniera tale che ci tiriamo un po' sulla vicenda, perché, vi ripeto, non sono passati manco due mesi e qua già, non dico che la voglia scarseggia, ma si fa una fatica immensa a condurre per esempio una streaming o a cercare l'idea per portare contenuti di qualità sul tubo. Quindi, raga, nulla. Per quanto riguarda sto video è tutto, mi raccomando, lasciate un like, commentate in tanti, più che mai questa volta, iscrivetevi al canale perché stiamo crescendo bene, mi fa super piacere. Lo sapete, mi trovate poi ogni giorno in live per questi altri temi sulla piattaforma Viola, trovate tutte le info in descrizione, ragazzoni. Quindi io non posso fare altro che salutarvi, vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!